Davide Iarnelli è in grado di intendere e di volere e lo era anche l'11 marzo del 2022 quando ad Olbia, nel condominio di Via Petta, secondo l'accusa, getto della benzina addosso al suo vicino di casa Toni Cozzolino, 49 anni di Olbia, per poi dargli fuoco. Lo ha stabilito nella sua perizia la psichiatra Claudia Granieri, incaricata dal Tribunale di Sassari, nel processo in corte d'assise che vede imputato il 49enne di origine napoletane per omicidio premeditato, poiché Cozzolino morì all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari pochi giorni dopo, a causa delle gravissime ustioni riportate. L'avvocato Abele Cherchi, che difende Iarnelli, ha però chiesto che la relazione sia dichiarata nulla perché la professionista ha fatto eseguire da altre persone dei test sull'imputato i cui risultati non compaiono nella documentazione consegnata. La Corte, presiduta dal giudice Massimo Zaniboni, si è riservata ai decidere in merito e ha disposto che i test vengano depositati agli atti per poterne così discutere nella prossima udienza fissata per il 24 settembre. Intanto in aula a sostenere l'accusa si è presentata la PM Claudia Manconi al posto di Daniele Rosa, che è stato trasferito.